Non riesce a fare niente, non lo si può fare. Ma restando sempre in tema di supereroi, uno che si è rappresentato come tale, ma che ormai ha perso tutti i superpoteri, è lui. Renzi, il Superman di Rignano sull'Arno. Purtroppo la sua criptonite sono stati mamma e papà. Fatture false, genitori di Renzi ai domiciliari. Pensa al destino di Renzi. Per anni in mezza Italia ha cercato di mandare a casa lui e si sono finiti i suoi genitori. Per carità, ragazzi, massimo rispetto. I genitori sono due persone anziane e la magistratura deve ancora accertare tutto. Anzi, molti si sono chiesti se l'arresto non sia stato esagerato. Il GP di Firenze però dice che il motivo c'era. Rischio reiterazione del reato, spiegati così gli arresti domiciliari ai genitori di Renzi. Ma figurati, a me sembra veramente impossibile. Reiterazione del reato. Ma dai. Secondo voi, con tutti i problemi che hanno i genitori di Renzi si mettono a fare un altro figlio? Cioè, però... Una cosa va detta! Paradossalmente, quella dei genitori di Renzi è una buona notizia per il partito. Almeno nel PD hanno trovato qualcosa su cui discutere. Cazzo, almeno discutere qualcosa. Chi parla di complotto? Chi di giustizia ad orologeria? Chi di magistratura politicizzata? Sono tutti ringaluzziti. È stato come lanciare una carota in una coniglieria, no? No, perché se no, prima di che cosa parlavano? Di Martina? Di Giacchetti? E cosa dici su Giacchetti? Non sai nemmeno se è quello con la barba o quello con gli occhiali, toh. Su Zingaretti? Ecco, su Zingaretti puoi forse parlare del fratello che fa il commissario. Ma comunque non ti dilunghi. Una cosa è certa, la sinistra non parla più di sinistra da anni. Diseguaglianza, diritti, lavoro. Basta, finito. Argomenti tabù. Tu pensa che in tanti anni di governi di sinistra, tra Prodi, Letta, Renzi e Gentiloni, nessuno, a nessuno, Cazzarola è mai venuto in mente in Italia di fessiare un salario minimo. Se lo sono dimenticato. Esiste in 22 paesi d'Europa, ma in Italia no. L'anno scorso avevo fatto vedere la classifica dei paesi più ricchi europei, di quelli che versano i maggiori contributi all'Europa. L'Italia è terza, dopo Germania e Francia. Ecco, in Germania e Francia c'è un minimo salario di 1500 euro al mese per tutti. Anche per quelli che svuotano i cestini. Non è che devi trovare il bosone di X, no. Diciamo che in Italia chiunque governi, che ci sia la destra, che ci sia la sinistra, i salari, Cazzarola, non aumentano mai. Ma qui non solo non aumentano i salari, perché diminuiscono pure. Retribuzioni calo del 4,3% in sette anni. E poi ti domandi perché gli italiani non si fidano più del PD. Ma non tutto è perduto, ragazzi. Perché all'orizzonte è comparso lui. Paraganza? Carletto Calenda. Uno che oggi si propone proprio come grande speranza della sinistra. Si esprime con l'autorevolezza di Berlinguer, ma con i testi di Uno Mattina. Dunque, lui è così di sinistra che ha lavorato in Confindustria. Attenzione, non per la Confindustria, quello sono buoni tutti, persino Renzi. No, 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 no. Proprio in Confindustria ci lavorava, c'era proprio l'ufficio con la targhetta. Direttore dell'area strategica e affari internazionali. È evidente che ha tutte le carte in regola per guidare la sinistra. Ne incarna perfettamente i valori. Ha proprio il physique du Rolex. Però, anche se non sembra, lui è un combattente, è un gladiatore. Ve lo ricordate Barry Lyndon? Ecco, la storia di Calenda è uguale. Risse, scazzottate, inseguimenti, duelli. Non ci credete, l'ha detto lui. Guardate. Vedete questa cicatrice che c'è in faccia? Me l'ha fatta Moroello. Moroello. Non conoscete Moroello? Cazzo, ma che nome è Moroello? Dai, il principe Moroello Diaz della Vittoria Palavicini. È un suo amico con cui fece a botte a un ballo tanti anni fa. Lo ha raccontato al raduno dell'associazione di more storiche. Riassumiamo. La grande speranza della sinistra italiana è uno che si vanta di essersi menato con un principe o un ballo e lo dice a un raduno di proprietari di Castelli. No, capisci che come... Come compagno... Come compagno è più credibile Emanuele Filiberto. Sono sempre stato di sinistra, ho sempre votato di sinistra. Un mese fa Calenda ha fatto un manifesto. Ha proposto una lista unitaria per le europee. Siamo europei. Guarda che bello. Certo, come nome avrebbe fatto più colpo Siamo Seri, ma non voleva illudere gli elettori. Siamo europei però piace. Perché dà già l'idea che sei in mezzo d'accordo con lui. Siamo europei? Sì. Ecco, bene. Però scusa Calenda, e ora che sappiamo chi siamo? Mo che se fa? No, perché al momento il programma non è chiarissimo, il programma di Siamo Europei. Non è neanche chiarissimo se lui sarà il leader di questo manifesto. Perché lui continua a dire che non lo conosce nessuno e che gli altri sono meglio di lui. Ve lo giuro, è proprio umile, 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 così umile che andava in Confindustria a scalzo.